Siamo con l'Avvocato Roberta Blasi, Vicepresidente del Comitato Duomo Vecchio. Quello che è stato evidenziato proprio da questo comitato è l'utilizzo di quest'area, soprattutto nelle ore serali, che diventa una terra di nessuno, ma che quando ci sono altre iniziative, questi signori, chiamiamoli così, spariscono. Sì, ho voluto appunto esplicitare il mio pensiero proprio domenica, che sono venuta a fare un giretto qua al Mercatino delle Pulci e proprio dietro di me c'era il push storico di queste zone insieme al tossico storico e abbastanza allibiti hanno indietreggiato all'ingresso del mercatino. Per me questa è stata una grande soddisfazione. Ritengo che questi tipi di eventi devono essere comunque qui realizzati proprio per evitare che invece questo posto così bello diventi il centro di attività assolutamente illecito. Quindi per me è un grido ancora una volta verso tutte le istituzioni affinché in previsione delle feste natalizie si possa iniziare a pensare a degli eventi importanti che quantomeno dalla mattina alla sera e non dico magari la sera dopo scena possano evitare che appunto venga questa zona frequentata da personaggi che ormai sono a conoscenza di tutti, in particolare di chi vive in questa zona. In particolare volevo evidenziare che ai primi di ottobre, se non erro, qui è stato effettuato un blitz di particolare rilevanza. Noi chiaramente condividiamo e applaudiamo tutte le istituzioni che si sono rese e partecipa a questa cosa però riteniamo che un evento di questo genere fino a se stesso porta poco. Cioè noi qui ci viviamo e quindi eliminati i poliziotti, andato via l'elicottero e le persone che frequentano questa zona sono tornate. Quindi occorre comunque un monitoraggio quotidiano di questa zona e soprattutto rilevo che se ci sono eventi particolari questa zona non viene frequentata da chi invece naturalmente la utilizza per propri scopi. Quindi è appunto un invito all'istituzione affinché quest'anno, proprio in previsione delle feste natalizie, oltre che all'albero di cui richiediamo che venga ristituito ci siano dei particolari eventi. A me viene in mente magari dei giochi particolari per i bambini, un mercatino particolare in questa zona. E è un invito anche a tutti i commercianti della zona, veramente sono tanti, sono presenti, sono bravi, lavorano, che si riuniscano. Anche per avere un'idea, cioè per dire adesso si sta riaprendo finalmente l'ex bar magi, faccio un invito anche a loro con un augurio veramente di buon lavoro, affinché appunto abbiano delle idee perché questa zona venga frequentata dalle persone per bene. Qui non si tratta di diversificare bianchi, neri e rossi, qui si tratta di diversificare persone per bene e da delinquenti, perché credetemi qui ci sono veri, veri delinquenti. Di notte com'è la situazione? Di notte è incredibile, dalle 10 in poi è una cosa, cioè io, meno male, non è che la vedo tantissimo dalle mie finestre, però vedo il via vai di questa zona. Capisco chi risiede qui perché è veramente una cosa inconcepibile. Immagino che dovete ogni tanto chiamare anche le forze dell'ordine. Certo, bisogna anche chiamare le forze dell'ordine che poi arrivano più o meno. I giochi per i bambini non hanno tenuto lontani questi signori. Anche perché ora, volevo dire, sono veramente due giochi obsoleti, vecchi, senza interesse. Cioè io penserei a una situazione un po' più moderna di questa zona, non certo queste due cose in plastica che nulla rilevano, anzi esprimono proprio forse l'abbandono di questa zona.